Una tragedia inspiegabile, una morte drammatica che l'ha strappata al mondo ad appena 24 anni. Ambra Seferi è deceduta ieri a Barcellona a Pozzo di Gotto dopo un volo dal terzo piano. La donna è deceduta a seguito di gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nella sua abitazione e precipitata infatti da un lucernario situato in una palazzina di via Benedetto Croce. Ambra si era ritrovata fuori casa presumibilmente a causa della chiusura improvvisa della porta e preoccupata per la sicurezza del figlio di 18 mesi e di un'altra bambina di due anni figlia di un'amica ha tentato subito di rientrare in casa attraverso il lucernario. Nel tentativo di passare dall'abitazione passando dalla terrazza che si affaccia sulla parte posteriore della casa la donna avrebbe perso l'equilibrio con un volo di oltre 10 metri che le è risultato fatale. Purtroppo è precipitata nel vuoto e nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto all'ospedale di Milazzo le ferite sono risultate troppo gravi. Ambra è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Una perdita tragica e dolorosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica non essendo emerse responsabilità di terzi. Ambra viveva da due anni nella cittadina del Messinese. Dopo la separazione dal marito rimasto in Albania era stata accolta dai genitori che si erano stabiliti lì da tempo e progettava il suo futuro in Sicilia dove era nato il suo bambino. Una giovane vita spezzata troppo presto.